Allora, la situazione è un pochino particolare, ma vi spiego subito perché. Perché che cosa aspettiamo noi? Dato che in questa precisa situazione Bitcoin si è trovato in più occasioni e in più occasioni ha fatto la stessa cosa, adesso ve la vado a far vedere in modo tale da vedere se noi in questa situazione riusciamo a tirarne fuori qualcosa di buono. Cosa mi aspetto? Ora vi faccio vedere subito in termini pratici. Io qui mi aspetto una fase di range, va bene? Fase di range, adesso ve la spiego. Prima ve la spiego e poi la andiamo a vedere. Fase di range, chiaramente, io voglio vederla in questa maniera, va bene? Cioè una roba del genere. Io voglio vedere che il prezzo oggi massimo domani alle 14 e qualcosa, che cavolo era? No, alle 16 domani, ok? Da oggi, domani alle 16, io voglio vedere questo movimento qui, ok? Vedere questo movimento qui per me significherebbe esattamente questo. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, se noi torniamo indietro nel grafico, allora parlo per i non abbonati. Questa roba che voi vedete, chiaramente vedete un botto di righe, non ci capite niente e io vi capisco perché chiaramente andate dallo youtuber che tira solo le righe di massimi di resistenze e supporti ed è chiaro che voi in questa condizione non ci capite niente. Ma perché? Perché noi facciamo trading, invece gli altri che vedete su YouTube fanno intrattenimento, sono due cose diverse. Bisogna capire dove voi volete stare, va bene? Allora, da una parte andate con l'ansia a seguire le notizie, FAD, FOMO, vedete il sentiment del mercato, oh mio dio, mio cugino è entrato, devo entrare anch'io. Noi invece cerchiamo una strategia oggettiva e replicabile che non ci fa interessare in nessun modo a notizie o al fatto che il prezzo possa scendere o salire. Perché noi tradiamo in tutti e due gli ambiti. Quindi, andiamo a vedere. Primo caso che vi voglio far vedere è questo. Allora, vedete che cosa fa qui? Io mi aspetto questo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo preso una dominance, allora abbiamo una fase impulsiva, ok? Abbiamo un POC, eccolo qui, che vedete da questa riga rossa, molto importante, che è quello dell'inizio della settimana. Voglio vedere una fase di range. Qui addirittura ha fatto due zone di liquidità, va bene? Qui ha provato, diciamo, a fare una zona di liquidità che poi non è stata presa, ma il prezzo è partito appunto dalla zona del POC. Questo voglio vedere, quindi questa è la prima. Vi faccio vedere le volte che è successo. Seconda volta, ed ecco perché noi la scorsa settimana abbiamo abbassato il rischio, perché si era venuto a creare questa situazione, ovvero quinta presa di liquidità, quarta in realtà. zona di range, vedete esattamente quello che voglio vedere io, 1, 2, 3, 8, 5, sbilanciamento e ce ne andiamo. Questa è la seconda volta che succede, va bene? Vedete abbiamo il POC della settimana, vedete? Ok, poi terza volta, vedete? Qui succede, è successo anche qui, eccola qui. Stessa identica situazione, 1, 2, 3, 4 volte prende la liquidità, fase di range, fase di accumulo, vedete che cosa fa? Ok, lo fa spesso e volentieri questa roba. In questo caso è partito dal 50% del range, con un piccolissimo sbilanciamento, cioè non fa mai la stessa cosa quando si parla di partenza, va bene? Quindi a volte parte in un modo, a volte parte in un altro, ma fa sempre questa fase di range dopo queste prese di liquidità. Torniamo un pochino indietro, vediamo, ce ne dovrebbe essere un'altra, no? Sì, eccola, va bene, che è questa. Eccola qui, qui poi è riassorbito subito, però il concetto è quello. Zona di 1, 2, 3, 4, 5 volte prende la liquidità, dominance, POC, ok? Noi vogliamo vedere sta roba qui, vedete? Poi lo fa anche al contrario, raga, cioè che sia ben chiaro, cioè dovete capire il concetto. Noi quando andiamo a vedere ste roba andiamo a vedere sempre i concetti, vedi? La stessa cosa al contrario, va bene? Quindi, andiamo su, andiamo su. Ricordo per i non abbonati, raga, questa roba è solo ed esclusivamente se voi il trading lo volete approcciare in maniera seria. Altrimenti tutte ste pippe non vi servono, soprattutto non vi abbonate perché spendete soldi e poi vi accorgete, come qualcuno ha fatto, che il trading non è rosa e fiori, come vi dicono, ma bisogna studiare ogni giorno, va bene? E noi studiamo ogni giorno, noi e altri 50 abbonati. Ricordo la live di stasera alle 20 e 30 per decidere il gruppo abbonati, ok? Quindi per tutti gli abbonati mi raccomando stasera 20 e 30, dopo oggi pomeriggio vi dirò per bene tutto quello che volete sapere. Allora, qui che cosa abbiamo? Torniamo al nostro punto, vediamo se potrebbe essere lo stesso, vediamo se questa concezione la faremo più in alto, io non lo so. Dovremmo aspettare una fase di range, va bene? Allora, la presa di liquidità, guardate, c'era stata la scorsa settimana, vedete un po', guardate un po', la fase di range, vedete, c'era tutto, c'era il POC, c'era tutto, ed ecco perché io qui vi ho detto, ragazzi, attenzione, qui può partire uno short forte. Non è partito? Ce ne sbattiamo. Ha lasciato un sacco di vuoti, inefficienze, disequilibri nel mercato? Certo. E infatti noi che cosa vogliamo fare? Noi aspettiamo esattamente questo, quindi questa dominance, questa dominance, questa, questa qui di ieri, ah, poi vi devo dire anche un'altra cosa di questa dominance, questa dominance, adesso fate una cosa, la dominance, adesso vi dico, eh, la dominance del 24 novembre alle ore 5 della mattina, ve l'andate a guardare sul 15 minuti e vi accorgerete che come l'abbiamo impostata noi, è leggermente sbagliata, ovvero, aspettate perché è sbagliata, no, non è sbagliata, perché il nostro metodo è oggettivo e replicabile, il problema è che io mi sono sbagliato, no, non è proprio così, però vi voglio far vedere, noi abbiamo preso la dominance e abbiamo tirato la nostra teoria a partire, no? Ma, quando è che io ho detto che c'era stato la nuova dominance? Vedendo la candela delle 6, ma in realtà se scendete sul 15 minuti non ha rispettato il nostro primo criterio, ok? Quindi, eh, io invece pensavo di sì, ma per qualche pips non c'è arrivato, quindi la dominance in realtà reale, vera, è questa, è così. Infatti, poi, se andiamo a tracciare questa, l'impulso è partito dal 50%, eccolo, perfettamente. Infatti, così ritorna tutto, va bene? Detto questo poi ve la spiegherò meglio, adesso questo è il video anche per i non abbonati, ma non serve, ci ritorneremo su questa dominance qui, ok? Adesso vi lascio un appunto così ci ritorneremo e vi faccio vedere meglio sul 15 minuti, va bene? Bene, quindi torniamo a noi, che cosa voglio vedere? Allora, nella sessione pomeridiana di oggi io non voglio vedere niente, bam, infatti la cancello, ok? Non voglio vedere niente, io voglio vedere una fase di range, fase di range, questa roba qui voglio vedere, va bene? Se questa roba qui nel giro di oggi e domani si verifica e in questa zona qui mi comincia a fare una delle cose che abbiamo visto, quindi, cosa voglio dire? Con una delle cose che abbiamo visto, mi torna nel POC della dominance, mi va a fare uno sbilanciamento, quindi, mi torna, mi va a fare uno sbilanciamento e poi scende, mi va a fare una doppia liquidità, come ha fatto una, eccola, due, ok? Non lo so, poi magari, ragazzi, io faccio sta roba, poi magari ne fa un altro d'impulso, eh? E quindi noi aspettiamo la stessa cosa, ma in una, diciamo, come si dice, in un livello di prezzo diverso. Non cambia nulla, cioè non cambia la nostra teoria di cosa andiamo a guardare, raga, eh? Che sia ben chiaro, eh? Che sia ben chiaro. Io non so se lo farà qui, perché non faccio il mago, lo sapete? Tanto noi abbiamo una dominance che ci dice quello che fare e quindi ce ne sbattiamo un po'. Ma questa dominance io adesso, il 50 al 75, la traderei con molta cautela, va bene? Quindi con un rischio molto basso e ve l'ho spiegato perché. Perché questa è una zona che, se noi andiamo a guardare i precedenti impulsi, potrebbe darci questa indicazione. Dov'è che ce la darà? Quando noi vedremo una fase di range. Cioè il trigger sarà la fase di range, ok? Questo voglio che sia chiaro, va bene? Se non c'è questa fase di range, tutto quello che ho visto a dire non serve a niente, va bene? Dobbiamo aspettare una fase di range. Detto questo, il video finisce qui, raga. Perché tanto la dominance ce l'abbiamo, e l'abbiamo vista. Se non siete abbonati ho fatto un video per identificarle in modo oggettivo e replicabile. Poi abbiamo la fase di prese di liquidità che si susseguono, quindi ce l'abbiamo. Siamo a inizio settimana e questa è una settimana piena zeppa di notizie. Di conseguenza ci potrebbe stare un meno 10, quindi meno 10, di cosa parliamo un meno 10? Di tornare più o meno in questa zona, va bene? Meno 10. Poi, se c'è un meno qualcosa in più, va bene. E poi lo analizzeremo insieme. Perché, raga, questa è una fase di mercato, che è vero che c'è tanta euforia, bla bla bla, e quello via discorrendo. Però ci sono anche dei dati da rispettare che questa settimana, qui parla la Fed, insomma ci sono tante cose, raga, tante cose questa settimana. È piena zeppa di impegni. Infatti io vi ho messo tutte le sessioni aggiornate che potete andare a controllare qui, ok? Cliccate il calendarietto e ve la andate a vedere voi le notizie. Vedete qui c'è giovedì, vedete giovedì alle 14.30, poi che c'è martedì, vedete martedì, martedì, martedì. La Fed parla, vabbè, diciamo che non è così fondamentale. Però, per farvi capire che ci sono un botto di notizie qui, vedete, che voi potete andare a guardare. E a noi ci interessano le notizie, tradiamo le notizie, assolutamente non ce ne frega niente le notizie, zero. Noi vediamo per una questione di orari, cioè quindi le notizie le guardiamo perché sappiamo che nella notizia c'è volatilità. Se quella volatilità corrisponde anche ad un livello chiave, noi utilizziamo quello per applicare la nostra strategia. Non ce ne frega niente della notizia, non ce ne frega niente se va su o giù il prezzo. Perché noi abbiamo una strategia che esclude questo tipo di operatività, va bene? Che non ho detto che non funziona, è un'operatività che noi non usiamo, semplicemente, va bene? Quindi di come si sta mettendo adesso? Io vi dico, aspettiamo se c'è questa fase di range perché è il nostro trigger. Per farci capire che se dovessimo rompere i 78.500, ok? Dalla dominance, dalla nuova dominance che rompe i 78.500, noi andremo subito pesanti con il nostro rischio. Va bene? Pesanti significa che lo sfrutteremo al 100%, non vuol dire che lo alzeremo, vuol dire che andremo a fare operazioni sciagurate. No, noi faremo esattamente la stessa identica cosa ma con il rischio massimo che c'è, che ci imponiamo, va bene? E in genere è del 3% e non lo supera mai. Spesso anche il 2,5, va bene? Quindi il 3% già è un bel fare, raga, già ve lo dico. Un 3% comincia a essere tanto come il rischio. Però, giustamente, se qualcuno qui trada con 100 euro, di che cazzo parliamo, ok? Però, il rischio deve essere rapportato, va bene? Quindi, in questa fase di mercato, noi il long lo abbassiamo drasticamente il rischio. Se invece si verrà a verificare una dominance short, lo alzeremo pesantemente. Vi ricordate che io qui vi avevo detto, guardate che se rompe la zona 4, con forza, va su, ok? Ha fatto questa roba, ma qui era sabato, vedete? Sabato e domenica, poi quando ha rotto il 4, boom! C'è andato su, quindi in realtà avevo capito che poteva essere un movimento del genere, va bene? Ve l'avevo detto, guardate che se andiamo a rompere sta roba, se andiamo a rompere sta roba e quindi non funziona questa fase di range, il prezzo va, infatti così ha fatto, va bene? Quindi, date l'iretta al vostro pit, perché ogni tanto ve le fa vedere le cose. Io dopo, che cosa succede? Per problemi di tempo, non è che tutte le volte posso tornare indietro a farvi vedere cosa abbiamo fatto, parlo per i non abbonati, perché gli abbonati hanno il grafico esattamente come il mio e quindi possono farlo da soli, questi genere di considerazioni. Però, se non siete abbonati e pensate che con un minuto di video vi andate a giudicare quello che facciamo noi giornalmente per ore, sbagliate. Perché qui abbiamo un approccio totalmente diverso da lo youtuber tradizionale che voi vedete, che disegna righe e si muove su righe orizzontali. Qui ci sono degli studi molto più in deep. Se volete seguire questi studi, ragazzi, vi dovete abbonare. Il costo è bassissimo, perché 25 euro su un mese è veramente una pisciata, ok? 25 euro che se non vi piace quello che facciamo, non trovate riscontro, siamo noiosi, non vi piace il gruppo, cioè, ve ne potete andare con soli 25 euro. Quindi il mese dopo non rinnovate l'abbonamento. Semplice e indolore. Va bene, secondo me però per questo prezzo vale la pena provare. Perché, come avete visto da tutti i video che io faccio gratuiti, diciamo, settimanalmente, voi vedete che noi, alla fine del gioco, spessissimo andiamo veramente dietro al mercato e cerchiamo di sfruttarlo nella maniera migliore. Con una strategia oggettiva e replicabile sull'H1, quindi assolutamente sostenibile per tutti, anche per chi lavora. Va bene, non ho detto che questo è il graal, perché io non vi do una strategia, ma vi faccio vedere come crearne una. Va bene? Quindi, che cosa succede? Dal momento che io ve lo dico sempre, la strategia non esiste, la strategia ce n'è una e basta. Voi vi dovete creare le vostre strategie. E io vi faccio vedere proprio questo. Perché le strategie funzionavano cinque anni fa, adesso non funzionano più. Quindi è inutile che vi imparate una strategia, un pattern a memoria, qualcosa a memoria. Perché tanto dopo un po' non funziona. Io vi faccio vedere proprio questo. Vi faccio vedere quante volte funziona, quante volte non funziona e quante volte noi possiamo ricavare da una strategia a un edge. Ovvero un vantaggio, che è lo stesso vantaggio che ci permette, alla fine, piano ma costante di guadagnare. Detto questo, noi, il video finisce qui. Se siete arrivati fino a qui, scrivete pecora arancione. E noi ci vediamo questa sera con la live alle 20 e 30. Parlo per gli abbonati. Non vi preoccupate se non ci potete essere, perché la live chiaramente la metterò, la registreremo. Già vi dico, raga, io non so quanto dura la live di stasera, quindi non vi prendete mezz'ora fino alle 9. Cioè, preparatevi con la tazza di caffè dopo cena e noi ci vediamo con la massima calma. Spero che attiviate microfoni, cuffie e tutto quello che serva, perché io ho bisogno di gente che partecipa. Non è una live dove io faccio il mio monologo, va bene? Ho bisogno anche di voi. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video per i non abbonati. Ci vediamo forse tra qualche giorno. Noi, se vi abbonate, avrete video la mattina, tutti i santi giorni. Detto questo, noi ci vediamo stasera, va bene? Se succede qualcosa di diverso da quello che vi ho detto, vi aggiorno sul canale di Telegram. Ciao!